Leggiamo ora dal libro di Esther, capitolo primo. I governatori delle province furono riuniti in sua presenza, ed egli mostrò le ricchezze e la gloria del suo regno e il fasto magnifico della sua grandezza, per molti giorni, per centottanta giorni. Scorsi che furono quei giorni, il re fece un altro convito di sette giorni nel cortile del giardino del palazzo reale per tutto il popolo che si trovava assusa alla residenza reale, dal più grande al più piccolo. A razzi di cotone finissimo, bianche e violacei, stavano sospessi con cordoni di bisso e di scarlatto a degli anelli d'argento e a delle colonne di marmo. Veran dei divani d'oro e d'argento sopra un pavimento di porfido, di marmo bianco, di madreperle e di pietre nere. Si porgeva da bere in vasi d'oro di forme svariate, e il vino reale era abbondante grazie alla liberalità del re. E l'ordine era dato di non forzare alcuno a bere, poiché il re aveva prescritto a tutti i grandi della sua casa che lasciassero fare a ciascuno secondo la propria volontà. La regina Vasti fece anchella un convito alle donne della casa reale del re Assuero. Il settimo giorno il re, che aveva il cuore reso allegro dal vino, ordinò a Mehuman, a Bitzah, a Horbona, a Bicta, a Dabacta, a Zechar e a Carcas, i sette enucchi che servivano in presenza del re Assuero, che conducessero davanti a lui la regina Vasti con la corona reale, per far vedere ai popoli e ai grandi la sua bellezza, poiché essa era bella d'aspetto. Ma la regina Vasti rifiutò di venire secondo l'ordine che il re le aveva dato per mezzo degli enucchi, e il re ne fu irritatissimo, e l'ira divampò dentro di lui. Allora il re interrogò i savi che avevano la conoscenza dei tempi, poiché gli affari del re si trattavano così in presenza di tutti quelli che conoscevano la legge e il diritto. E i più vicini a lui erano Carcena, Shetar, Admata, Tarsis, Meres, Mersena e Menucam, sette principi di Persia e di Media, che vedevano la faccia del re e occupavano i primi posti del regno. Secondo la legge, disse, che si devegli fare alla regina Vasti per non aver ella eseguito l'ordine datole dal re, Assuero per mezzo degli enucchi? E Menucam rispose in presenza del re e dei principi. La regina Vasti ha mancato non solo verso il re, ma anche verso tutti i principi e tutti i popoli che sono in tutte le province del re Assuero, poiché quello che la regina ha fatto si saprà da tutte le donne, e le indurrà a disprezzare i loro propri mariti, giacché essi diranno, il re Assuero aveva ordinato che si conducesse in sua presenza la regina Vasti, ed è la non ve andata. Da ora innanzi le principesse di Persia e di Media, che avranno udito il fatto della regina, ne parleranno a tutti i principi del re, e ne nascerà un gran disprezzo e molto sdegno. Se così piaccia al re, venga da lui emanato un editto reale, e sia scritto fra le leggi di Persia e di Media, tal che sia irrevocabile, e per il quale Vasti non possa più comparire in presenza del re Assuero, e il re conferisca la dignità reale ad una sua compagna migliore di lei. E quando le ditto che il re avrà emanato sarà conosciuto nell'intero suo regno che è vasto, tutte le donne renderanno onore ai loro mariti dal più grande al più piccolo. La cosa piacque al re e ai principi, e il re fece come aveva detto Menucam, e mandò lettere a tutte le province del regno, ed ogni provincia secondo il suo modo di scrivere, ed ogni popolo secondo la sua lingua per esse lettere, e ogni uomo doveva essere padrone di casa propria, e parlare la lingua del suo popolo. Ester capitolo secondo Dopo queste cose, quando l'ira del re fu calmata, egli si ricordò di Vasti di ciò che l'aveva fatto, e di quanto era stato deciso a suo riguardo, e quelli che stavano al servizio del re dissero, si cerchino per il re delle fanciulle vergini e belle d'aspetto, stabilisca il re in tutte le province del suo regno dei commissari, i quali radunino tutte le fanciulle vergini e belle alla residenza reale di Susa, nella casa delle donne sotto la sorveglianza di Egaia e Nuco del re, guardiano delle donne, che darà loro i cosmetici di cui abbisognano, e la fanciulla che piacerà al re diventi regina invece di Vasti. La cosa piacque al re, e così si fece. Or, nella residenza reale di Susa, vera un giudeo per nome Mardoccheo, figliuolo di Jair, figliuolo di Shimei, figliuolo di Chis, un beniaminita, che era stato menato via da Gerusalemme, fra gli schiavi trasportati in cattività, con Geconia re di Giuda da Bucadenestar re di Babilonia. Egli aveva allevata la figliuola di suo zio Adassa, che è Ester, perché essa non aveva né padre né madre. La fanciulla era formosa e di bell'aspetto, e alla morte del padre e della madre, Mardoccheo l'aveva adottata per figliuola. Come l'ordine del re e il suo editto furono divulgati, e un gran numero di fanciulle furono radunate nella residenza reale di Susa sotto la sorveglianza di Egai, Ester fu menata anch'essa nella casa del re sotto la sorveglianza di Egai, guardiano delle donne. La fanciulla piacque a Egad, ed entrò nelle buone grazie di lui, e s'affrettò a fornirle i cosmetici di cui ella aveva bisogno, e i suoi alimenti, le diede sette donzelle scelte nella casa del re, e assegnò a lei e alle sue donzelle l'appartamento migliore nella casa delle donne. Ester non aveva detto nulla né al suo popolo né del suo parentato, perché Mardocchei le aveva provito di parlare. E Mardoccheo tutti i giorni passeggiava davanti al cortile della casa delle donne per sapere se Ester stava bene e che cosa si farebbe di lei. Or, quando veniva la volta per una fanciulla ad andare dal re a Suero alla fine dei dodici mesi prescritti alle donne per i loro preparativi, perché tanto durava il tempo dei loro preparativi, sei mesi per profumarsi con olio di mirra e sei mesi con aromi ed altri cosmetici usati dalle donne, la fanciulla andava dal re e le si permetteva di portar seco dalla casa delle donne alla casa del re tutto quello che chiedeva. Vandava la sera e la mattina di poi passava nella seconda casa delle donne sotto la sorveglienza di Sha'az-gaz e nuco del re guardiano delle concubine. Ella non tornava più dal re a meno che il re non la desiderasse ed ella fosse chiamata nominatamente. E quando venne la volta per Ester la figliola di Abihail, zio di Mardoccheo che l'aveva adottata per figliola d'andare dal re e la non mandò altro fuori di quello che le fu indicato da Egai e Nucco del re guardiano delle donne. Ed Ester si guardagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Ester fu dunque condotta dal re Assuero nella casa reale il decimo mese che è il mese di Tebet, il settimo anno del regno di lui. E il re amò Ester più di tutte le altre donne ed ella trovò grazie e favore agli occhi di lui più di tutte le altre fanciulle e le pose in testa la corona reale e la fesce regina in luogo di vasti. E il re fesce un gran convito a tutti i suoi principi e ai suoi servi che fu il convito d'est concedette sgravi alle province e fesce doni con munificenza di re. Or, la seconda volta che si radunavano delle fanciulle, Mardokeo stava seduto alla porta del re. Ester, secondo l'ordine che Mardokeo le aveva dato, non aveva detto nulla né del suo parentado né del suo popolo poiché ella faceva quello che Mardokeo le diceva come quando era sotto la tutela di lui. In quel giorno, come Mardokeo stava seduto alla porta del re, Bicta e Teresh, due enucchi del re di fra le guardie della soglia, irritatisi contro il re Assuero, cercarono d'attentarli alla vita. Mardokeo, avuto sentore della cosa, ne informò la regina Esther, ed Esther ne parlò al re in nome di Mardokeo. Investigato e verificato il fatto, i due enucchi furono appiccati a un legno e la cosa fu registrata nel libro delle cronache in presenza del re. Esther, capitolo terzo Dopo queste cose, il re Assuero promosse Aman, figliolo di Amedata, la Gagita, alla più alta dignità e posse il suo seggio al di sopra di quelli di tutti i principi che erano con lui, e tutti i selvi del re che stavano alla porta del re si inchinavano e si prostravano davanti a Aman, perché così aveva ordinato il re a suo riguardo. Ma Mardokeo non si inchinava né si prostrava. E i selvi del re che stavano alla porta del re dissero a Mardokeo Perché trasgradisci l'ordine del re? Or come se glielo ripetevano tutti i giorni ed egli non dava loro ascolto, quelli riferirono la cosa da Aman per vedere se Mardokeo persisterebbe nel suo dire, perché egli aveva loro detto che era giudeo. Aman vide che Mardokeo non si inchinava né si prostrava davanti a lui e ne fu ripieno d'ira. Ma sdegnò di mettere le mani addosso a Mardokeo soltanto c'è che egli avevano detto a quel popolo Mardokeo apparteneva e cercò di distruggere il popolo di Mardokeo tutti i giudei che si trovavano in tutto il regno da Suero. Il primo mese che è il mese di Nisan il dodicesimo anno del re a Suero si tirò a Pur vale a dire si tirò a sorte in presenza di Aman un giorno dopo l'altro e un mese dopo l'altro finché sortì designato il dodicesimo mese che è il mese di Adar e Aman disse al re a Suero v'è un popolo appartato e disperso fra i popoli di tutte le province del tuo regno le cui leggi sono diverse da quelli di ogni altro popolo e che non osservano le leggi del re non conviene quindi che il re lo tolleri se così piace al re si scriva che esso sia distrutto ed io pagherò diecimila talenti d'argento in mano di quelli che fanno gli affari del re perché siano portati nel tesoro reale allora il re si tolse l'anello di mano e lo diede a Aman la gagita figliolo di Amedata e nemico dei giudei e il re disse a Aman il denaro ti è dato e il popolo pure fagli quel che ti pare e il tredicesimo giorno del primo mese furono chiamati segretari del re e fu scritto seguendo in tutto gli ordini di Aman ai satrappi del re ai governatori di ogni provincia e a capi di ogni popolo e di ogni provincia secondo il suo modo di scrivere ed ogni popolo della sua lingua lo scritto fu redatto in nome del re Assuero e sigillato col sigillo reale e furono mandate delle lettere a mezzo di corrieri in tutte le province del re perché si distruggessero si uccidessero si sterminassero tutti i giudei giovani vecchi bambini donne in un medesimo giorno il tredici del dodicesimo mese che è il mese da dar e si abbandonassero al saccheggio i loro beni quelle lettere contenevano una copia dell'editto che doveva essere pubblicato in ogni provincia e invitavano tutti i popoli a tenersi pronti per quel giorno i corrieri partirono in tutta fretta per ordine del re e il decreto fu promulgato nella residenza reale di Susa e mentre il re e Aman se ne stavano a sedere bevendo la città di Susa era costernata Esther capitolo quarto or quando Mardoccheo seppe tutto quello che era stato fatto si stracciò le vesti si coprì d'un sacco si cosparse di cenere e uscì fuori in mezzo alla città mandando alte ed amare e grida e venne fin davanti alla porta del re perché a nessuno che fosse coperto di sacco era permesso di passare per la porta del re in ogni provincia dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto ci fu grande esolazione fra i giudei digiunavano piangevano si lamentavano e a molti serviron di letto il sacco e la cenere e le donzelle di Esther e i suoi enucchi vennero a riferirle la cosa e la regina ne fu fortemente angosciata e mandò delle vesti a Mardoccheo perché se le mettesse si levasse di dosso il sacco ma egli non le accettò allora Esther chiamò Atac uno degli enucchi che il re aveva messo al servizio di lei e gli ordinò di andare da Mardoccheo per domandargli che cosa questo significasse e perché agisse così Atac dunque si recò da Mardoccheo sulla piazza della città e di faccia alla porta del re e Mardoccheo gli narrò tutto quello che gli era venuto e gli indicò la somma di denaro che Amman aveva promesso di versare al tesoro reale per far distruggere i giudei e gli diede pure una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa per il loro sterminio affinché lo mostrasse a Esther la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re per domandargli grazia e per intercedere a pro del suo popolo e Atac tornò da Esther e le riferì le parole di Mardoccheo allora Esther ordinò ad Atac di andare a dire a Mardoccheo tutti i servi del re e il popolo delle sue province sanno che se qualcuno uomo o donna che sia entra dal re nel cortile interno senza essere stato chiamato per una legge che è stata per tutti e deve essere messo a morte a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro nel qual caso colui a salva la vita e io sono già trenta giorni che non sono stata chiamata per andare dal re le parole di Esther furono riferite a Mardoccheo e Mardoccheo fece dare questa risposta a Esther non ti mettere in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei perché sei nella casa del re poiché se oggi tu taci soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte ma tu e la casa di tuo padre perirete e chissà se non sei pervenuta ad essere regina appunto per un tempo come questo allora Esther ordinò che si rispondesse a Mardoccheo va raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me state senza mangiare senza bere per tre giorni notte e giorno anch'io con le mie donzelle e digiuneremo nello stesso modo e dopo entrerò dal re qualunque ciò sia contro la legge e se io debba perire che io perisca Mardoccheo se ne andò e fece tutto quello che Esther gli aveva ordinato Esther capitolo quinto il giorno dopo Esther si mise la veste reale e si presentò nel cortile interno della casa del re di faccia all'appartamento del re il re era assiso sul trono reale nella casa reale di faccia alla porta della casa e come il re ebbe veduta la regina Esther in piedi nel cortile e la si guadagnò la sua grazia e il re stese verso Esther lo scettro d'oro che teneva in mano ed Esther si appressò e toccò la punta dello scettro allora il re le disse che hai regina Esther che domandi quando anche tu chiedessi la metà del regno ti sarà data Esther rispose se così piace al re venga oggi il re con Haman al convito che gli ho preparato e il re disse fate venire subito Haman per fare ciò che Esther ha detto così il re e Haman vennero al convito che Esther aveva preparato e il re disse a Esther mentre si beveva il vino qual è la tua richiesta ti sarà concessa che desideri forse pure anche che sia la metà del regno tu l'avrai Esther rispose ecco la mia richiesta e quel che desidero se ho trovata grazia agli occhi del re e se piace al re di concedermi quello che chiedo e di soddisfare il mio desiderio venga il re con Haman al convito che io preparerò loro e domani farò come il re ha detto e Haman uscì quel giorno tutto allegro col cuore contento ma quando vide alla porta del re Mardoccheo che non si alzava né si muoveva per lui fu pieno d'ira contro Mardoccheo non di meno Haman si contenne e se ne andò a casa e mandò a chiamare i suoi amici a Zerash e Haman parlò loro della magnificenza delle sue ricchezze del gran numero dei suoi figliuoli di tutto quello che il re aveva fatto per aggrandirlo e del come l'aveva innalzato al di sopra dei capi e dei servi del re e aggiunse anche la regina Esther non ha fatto venire col re altri che me al convito che ha dato e anche per domani sono invitato da lei col re ma tutto questo non mi soddisfa finché vedrò quel giudeo di Mardoccheo sedere alla porta del re allora Zerash sua moglie e tutti i suoi amici gli dissero si prepari una forca alta cinquanta cubiti e domattina dia al re che vi si appicchi Mardoccheo poi vattene allegro al convito del re e la cosa piacque a Haman che fece preparare la forca Esther capitolo sesto quella notte quella notte il re non potendo prender sonno ordinò che gli si portasse il libro delle memorie le cronache e ne fu fatta la lettura in presenza del re vi si trovò scritto che Mardoccheo aveva denunziato Big Tath e Teresh i due nucchi del re di fra i guardiani della soglia i quali avevano cercato d'attentare alla vita del re a Suero allora il re chiese quale onore e quale distinzione si è dato a Mardoccheo per questo quelli che servivano il re risposero non si è fatto nulla per lui e il re disse chi è nel cortile or Haman era venuto nel cortile esterno della casa del re per dire al re di fare appiccare Mardoccheo alla forca che gli aveva preparata per lui e i servi del re gli risposero ecco c'è Haman nel cortile e il re fatelo entrare Eman entrò e il re gli disse che bisogna fare a un uomo che il re voglia onorare e Haman disse in cuor suo chi altri vorrebbe il re onorare se non me e Haman si rivolse al re all'uomo che il re voglia onorare si prenda la veste reale che il re suol portare e il cavallo che il re suol montare e sulla su testa è posta una corona reale si consegni la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del re si rivesta di quella veste l'uomo che il re vuole onorare lo si faccia percorrere a cavallo le vie della città e gli si gridi davanti a lui così si fa all'uomo che il re vuole onorare allora il re disse ad Haman fa presto e prendi la veste e il cavallo come hai detto e fa a quel modo a Mardoccheo a quel giudeo che siede alla porta del re e non tralasciar nulla di quello che hai detto e Haman prese la veste e il cavallo e rivestì della veste Mardoccheo e lo fece percorrere a cavallo le vie della città e gridava davanti a lui così si fa all'uomo che il re vuole onorare poi Mardoccheo tornò alla porta del re ma Haman si affrettò ad andare a casa sua tutto addolorato e col capo coperto e Haman raccontò a Zeresh sua moglie e a tutti i suoi amici tutto quello che gli era accaduto e i suoi Savi e Zeresh sua moglie gli dissero se Mardoccheo davanti al quale tu hai cominciato a cadere è della stirpe dei giudei tu non potrai nulla contro di lui e cadrai completamente davanti ad esso e mentre si parlavano ancora con lui giunsero gli enucchi del re i quali si affrettarono a condurre Haman al convito che Esther aveva preparato Esther capitolo settimo il re e Haman andarono dunque al convito con la regina Esther e il re anche questo secondo giorno disse a Esther mentre si beveva il vino qual è la tua richiesta o regina Esther ti sarà concessa che desideri fosse anche la metà del regno l'avrai allora la regina Esther rispose dicendo se ho trovato grazia agli occhi tuoi o re e se così piace al re la mia richiesta è che mi sia donata la vita e il mio desiderio che mi sia donato il mio popolo perché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti uccisi e sterminati ora se fossimo stati venduti per diventare schiavi e schiave mi sarei tasciuta ma il nostro avversario non potrebbe riparare al danno fatto al re con la nostra morte e il re a suero prese a dire alla regina este chi è e dov'è colui che ha tanta presunzione da far questo ed esser rispose l'avversario il nemico è quel malvagio di aman allora aman fu preso da terrore in presenza del re della regina e il re tutto adirato si alzò e dal luogo del convito andò nel giardino del palazzo ma aman rimase per chiedere grazia della vita alla regina este perché voleva perché vedeva e sapeva bene che nell'animo del re c'era la sua rovina poi il re tornò nel giardino del palazzo nel luogo del convito e intanto aman s'era gettato sul divano sul quale si trovava este e il re esclamò vuol egli anche far violenza alla regina davanti a me e in casa mia e non appena questa parola fu uscita dalla bocca del re copersero a aman la faccia e arbona uno degli enucchi disse in presenza del re ecco è perfino rizzata in casa di aman la forca alta cinquanta cubiti che aman aveva fatto preparare per mardocheo il quale aveva fatto per il bene del re e il re disse appiccatevi lui e così aman fu appiccato alla forca che gli aveva preparata per mardocheo e l'ira del re si calmò ester capitolo ottavo in quello stesso giorno il re assuero donò alla regina ester la casa di aman il nemico dei giudei e mardocheo si presentò al re al quale ester aveva dichiarato la parentella che l'univa a lui e il re si cavò l'anello che aveva fatto togliere a aman e lo diede a mardocheo ad ester diede a mardocheo il governo della casa di aman poi ester parlò di nuovo in presenza del re gli si gettò ai piedi e lo supplicò con lacrime agli occhi di impedire gli effetti della malvagità di aman la gagita e delle trame che gli aveva ordite contro i giudei allora il re stese lo scettro d'oro verso ester ester si alzò e rimase in piedi davanti al re e disse se così piace al re se io ho trovato grazia agli occhi suoi se la cosa gli par giusta e se io gli sono gradita si scriva per evocare le lettere scritte da aman figliolo di am e data alla gahita col perfido disegno di far perire i giudei che sono in tutte le province del re perché come potrei io reggere a vedere la calamità che colpirebbe il mio popolo come potrei reggere a vedere la distruzione della mia stirpe allora il re assuero disse alla regina ester al mardoccheo il giudeo ecco io ho dato a ester la casa di ama e questi è stato appeso alla forca perché aveva voluto metterla mano addosso ai giudei scrivete dunque a pro dei giudei come vi parla meglio nel nome del re e suggellate con l'anello reale perché ciò che è scritto in nome del re è sigillato con l'anello reale ed è irrevocabile e senza perder tempo il ventitreesimo giorno del terzo mese che è il mese di Sivan furono chiamati segretari del re e fu scritto seguendo in tutto l'ordine di mardoccheo ai giudei ai satrapi ai governatori ai capi delle centoventisette province dall'India all'Etiopia a ogni provincia secondo il suo modo di scrivere a ogni popolo nella sua lingua e ai giudei secondo il loro modo di scrivere nella loro lingua fu dunque scritto in nome del re Assuero si sigillarono le lettere con l'anello reale e le si mandarono per mezzo di corrieri che cavalcavano veloci corsieri usati per il servizio del re nati da stalloni reali in esse il re permetteva ai giudei in qualunque città si trovassero di radunarsi e di difendere la loro vita di distruggere uccidere e sterminare e non esclusi i bambini e le donne tutta la gente armata di qualunque popolo e di qualunque provincia si fosse che li assalisse o e di abbandonare al saccheggio i suoi beni e ciò in un medesimo giorno in tutte le province del re Assuero il tredici del dodicesimo mese che è il mese di Adar queste lettere contenevano una copia dell'edito che doveva essere bandito in ogni provincia e pubblicato fra tutti i popoli perché i giudei si tenessero pronti per quel giorno a vendicarsi dei loro nemici così i corrieri che montavano veloci corsieri usati per il servizio del re partirono tosto in tutta fretta per ordine del re e il decreto fu promulgato nella residenza reale di Susa Mardochè uscì dalla presenza del re con una veste reale di porpo e di lino bianco con una grande corona d'oro e un manto di bistro e di scarlato la città di Susa mandava gridi di gioia ed era in festa e i giudei poi erano raggianti di gioia d'allegrezza di gloria e in ogni provincia e in ogni città dovunque giungeva l'ordine del re il suo decreto vi furono tra i giudei gioia e allegrezza convinti e giorni lieti e molti appartenenti ai popoli del paese si fecero giudei perché lo spavento dei giudei si era impossessato di loro Est capitolo nono il dodicesimo mese che è il mese da dar il tredicesimo giorno del mese quando l'ordine del re e il suo decreto dovevano essere mandati ad effetto il giorno che i nemici dei giudei speravano da averli in loro potere avvenne invece tutto il contrario poiché furono i giudei che ebbero in loro potere i loro nemici i giudei si radunarono nelle loro città in tutte le province del re Assuero per mettere la mano su quelli che cercavano far ad essi del male e nessuno poter resistere loro perché lo spavento dei giudei si era impossessato di tutti i popoli e tutti i capi delle province i satrapi governatori e quelli che facevano gli affari del re dettero manforte ai giudei perché lo spavento di Mardoccheo si era impossessato di loro poiché Mardoccheo era grande nella casa del re e la sua fama si spandeva per tutte le province perché quest'uomo Mardoccheo diventava sempre più grande i giudei dunque colpirono tutti i loro nemici mettendoli a fil di spada uccidendoli e sterminandoli fecero dei loro nemici quello che vollero alla residenza reale di Susa i giudei uccisero e sterminarono cinquecento uomini e misero a morte Parshanadatha Daflon Apatha Porotha Adelia Aridatha Parmashatha Arisai Aritnai e vizzata i dieci figlioli di Aman figlioli di Amedatha il nemico dei giudei ma non si diedero al saccheggio quel giorno stesso il numero di quelli che erano stati uccisi alla residenza reale di Susa fu recato a conoscenza del re il re disse alla regina Esther alla residenza reale di Susa i giudei hanno ucciso e sterminato cinquecento uomini e dieci figlioli di Aman che avranno essi mai fatto nelle province del re or che chiedi tu ancora ti sarà dato che altro desideri l'avrai allora Esther disse se così piace al re sia permesso ai giudei che sono a Susa di fare anche domani quello che era stato decretato per oggi e siano appesi alla forca i dieci figlioli di Aman il re ordinò che così fosse fatto e il decreto fu promulgato a Susa e i dieci figlioli di Aman furono appiccati e i giudei che erano a Susa si radunarono ancora uccisero a Susa 300 uomini ma non si dietero al saccheggio gli altri giudei che erano nelle province del re si radunarono anch'essi difesero la loro vita ed ebbero reque dagli attacchi dei loro nemici uccisero 75.000 di quelli che li avevano in odio ma non si diedero al saccheggio questo avvenne il tredicesimo giorno del mese da dar il quattordicesimo giorno si riposarono e ne fecero un giorno di convito e di gioia ma i giudei che erano a Susa si radunarono il tredicesimo e il quattordicesimo giorno di quel mese il quindicesimo giorno si riposarono e ne fecero un giorno di conviti e di gioia perciò i giudei della campagna che abitano in città non murate fanno del quattordicesimo giorno del mese di adar un giorno di gioia di conviti e di feste nel quale gli uni mandano dei regali agli altri Mardokeo scrisse queste cose e mandò delle lettere a tutti i giudei che erano in tutte le province del re Assuero vicini e lontani ordinando loro che ogni anno celebrassero il quattordicesimo e il quindicesimo giorno del mese da dar come i giorni nei quali i giudei ebbero requie dagli attacchi dei loro nemici e il mese in cui il loro dolore era stato mutato in gioia il loro lutto in festa e facessero di questi giorni dei giorni di conviti e di gioia nei quali gli uni manderebbero dei regali agli altri e si farebbero dei doni ai bisognosi i giudei si impegnarono a continuare quello che avevano già cominciato a fare e che Mardokeo aveva loro scritto poiché Amman figliolo di Hamedata la Gahita il nemico di tutti i giudei aveva ordito una trama contro i giudei per distruggerli e aveva gettato il pur vale a dire la sorte per sgominarli e farli perire ma quando Este si fu presentata al cospetto del re questi ordinari ordinò per iscritto che l'ascelerata macchinazione di Amman aveva ordinata contro i giudei fosse fatta ricadere sul capo di lui e che egli e i suoi figlioli fossero appesi alla forca perciò quei giorni furono detti Purim dal termine Pur conforme quindi a tutto il contenuto di quella lettera in seguito a tutto quello che avevano visto e questo proposito che era loro avvenuto i giudei stabilirono e presero per sé per la loro progenie per tutti quelli che si aggiungerebbero a loro l'impegno inviolabile di celebrare ogni anno quei due giorni secondo il tenore di quello scritto e al tempo fissato quei giorni dovevano essere commemorati e celebrati di generazione in generazione in ogni famiglia in ogni provincia in ogni città e quei giorni di Purim non dovevano cessare mai di essere celebrati fra i giudei e il loro ricordo non doveva mai cancellarsi fra i loro discendenti la regina este figliola da Bihail e il giudeo Mardoccheo riscrissero con ogni autorità per dar peso a questa loro seconda lettera relativa al Purim e si mandarono delle lettere a tutti i giudei nelle 127 province del regno di Assuero lettere contenenti parole di pace e di fedeltà per fissar bene quei giorni di Purim le loro date precise come li avevano ordinato il giudeo Mardoccheo e la regina este e come essi stessi li avevano stabiliti per sé e per i loro discendenti in occasione del loro digiuno e del loro grido così l'ordine d'Ester fissò l'istruzione dei Purim e ciò fu scritto in un libro Esther capitolo decimo il re Assuero impose un tributo al paese e alle isole del mare or quanto a tutti i fatti concernenti la potenza e il valore di Mardoccheo e quanto alla completa descrizione della sua grandezza ed è come il re lo aggradì sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di media e di persia poiché il giudeo Mardoccheo era il secondo dopo il re Assuero grande fra i giudei e amato dalla moltitudine dei suoi fratelli che cercò il bene del suo popolo e parlò per la pace di tutta la sua stirpe di tutta di tutta